La ferrovia porrettana di nuovo sulla ribalta nazionale con il viaggio del porrettana express per inaugurare l'anno del treno turistico sulla storica linea ferroviaria realizzata tra il 1852 e il 1864 che da Pistoia sale sull'appennino tosco-emiliano. L'inaugurazione si è svolta nel deposito rotabili storici di Pistoia, obiettivo dell'iniziativa voluta dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini valorizzare un itinerario che rischiava di non essere più percorso e su cui la regione ha puntato vicino a un museo ferroviario e in un'area a vocazione turistica a poca distanza da Firenze. Il fatto che il ministro Franceschini sposi questo progetto e lo faccia diventare un progetto nazionale ci rafforza nella convinzione che è giusto da parte della regione non aver mai chiuso nessuna linea anche quelle più piccole e quelle più deboli dal punto di vista commerciale perché possono avere e danno invece un grande ruolo e una grande prospettiva in chiave di sviluppo di un turismo sostenibile. Ricordo che quando è stata razionalizzata la rete ferroviaria da parte regione toscana sulla Porettana si è aperto un dibattito. La linea Porettana è quella che ha unito l'Italia molto prima del 1861 e ancora oggi costituisce l'unica valida alternativa alla direttissima ma intorno a questo binario storico si è sviluppato una rete di associazioni si è mobilitata un'economia locale che deve essere adeguatamente sorretta. Il servizio Porettana Express prevede otto viaggi su treni storici da giugno a ottobre tutto all'insegna del turismo lento che valorizzi il territorio. Questi chilometri di binari sono pronti con poco possono ritornare a splendere dei veri gioielli di famiglia i quali un po' l'edera e un po' la trascuratezza del gestore ne hanno fatto perdere per poco tempo l'appeal oggi con la consapevolezza ambientale accresciuta questo patrimonio è qua e noi possiamo veramente mostrare l'Italia dal finestrino di un treno come era negli anni 50 dopo la guerra. Già nel 2019 il Porettana Express ha trasportato oltre 2000 persone.